I leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno dato il via libera ufficiale alla candidatura di Marco Marsiglio alla presidenza della regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Il senatore Marsiglio, si legge in una nota, è infatti stato concordamente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i disastri prodotti dalla sinistra in questi anni. I tre leader che oggi si sono confrontati a distanza con una videochiamata hanno comunque in programma di incontrarsi alla ripresa per definire le altre candidature e fare il punto della situazione. Per Giorgia Meloni il centrodestra, quando è unito, vince e governa bene. E dice, ringrazio gli alleati di Forza Italia e Lega, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per aver condiviso la scelta del senatore Marco Marsiglio come candidato governatore in Abruzzo. La competenza, l'esperienza e la concretezza fanno di Marsiglio la persona giusta per restituire a una terra bellissima e fragile il futuro che merita dopo anni di malgoverno della sinistra. Da oggi, compatti e determinati, affronteremo insieme questa sfida per riportare il centrodestra alla guida della regione e per difendere gli interessi degli abruzzesi. Già nei prossimi giorni sarò personalmente in Abruzzo al suo fianco. Grazie. Grazie. Grazie.